Dopo Roma, con la conferenza stampa di Italy, l'extravergine di Andria incontra i vini di Radici del Sud con Aspettando Coco. L'evento di preludio, l'imminente tredicesima edizione di Coco, la manifestazione e la yoga astronomica di promozione e marketing territoriale a sostegno dell'olio extravergine d'oliva Cultivar Coratina, si è svolta nella serata di sabato presso il Chiostro di San Francesco con le degustazioni del Nero di Troia tra sprezze e dolcezze. A precedere l'appuntamento con il vino, una conferenza stampa nel corso della quale sono state presentate le novità di questa tredicesima edizione diversa dalle precedenti. Niente concorso, si punta al marketing. Vogliamo puntare a promuovere la territorialità, l'originalità che credo sia importante e fondamentale per dare un segnale nuovo anche di accoglienza. Non a caso abbiamo pensato di promuovere e presentare Coco quest'anno a Roma, in una grande vetrina come quella di Italy e riteniamo anche così di promuovere pacchetti che sono legati per esempio a Coco Weekend o Coco a Tavola. C'è una promozione che i nostri ristoratori, le nostre attività ricettive possono offrire a coloro che vogliono visitare il nostro territorio durante la fase per esempio dell'attività di raccolta e estrazione dell'olio. Ma nel complesso riteniamo anche che si debba puntare su questa eccellenza. L'eccellenza del territorio insieme, olio e vino. Quella di coniugare le attività olivicole con quelle enologiche in un progetto parallelo di divulgazione delle eccellenze di entrambi i comparti si concretizza così in un momento di studio e approfondimento legato alle tematiche che stanno a cuore al mondo dei produttori. È un ottimo stato di cooperazione tra Coco e radici. Credo che il territorio è così grande che ha bisogno di mettere insieme queste piccole energie perché per poter avere una visibilità fuori confine è importante che Coco con l'olio ha una grande visibilità nel Mediterraneo perché ha giocato un ruolo importante con le passate edizioni, lo sappiamo, attraverso la gastronomia. Noi avendo esteso a tutto il sud il progetto di radici esportando questo paniere che ha compresenti tutti i vitini autottoni del sud ha una grande forza all'estero perché trovare in un'unica manifestazione tutti i vitini del sud insieme è una grande proposta per i buyer, gli importatori ma anche per gli stessi giornalisti che parlano di questa iniziativa. Nel corso della degustazione di sei diverse etichette di Nero di Troia invece Nicola Campanile, presidente di Radici Wines, ha introdotto l'assaggio di vini evidenziando le loro peculiarità e quelle del vitigno da cui provengono. Il senero di Troia e dei diversi areali della Puglia per fare un confronto sui territori e capire un po' le radici e le origini di questo vitigno.